Noi stiamo lavorando per tenere insieme, l'obiettivo è pace e lavoro, noi stiamo lavorando sui temi pace e lavoro, ovviamente non siamo in maggioranza per aumentare la tassa sulla casa, di questo Letta se ne faccia una ragione, l'aumento della tassa sulla casa e sui risparmi non potrà mai essere approvato e avvallato dalla Lega. La follia che sta agitando la maggioranza del governo è quella del no dei 5 Stelle alla valorizzazione dei rifiuti, a Roma e in tutta Italia c'è mezza Italia in emergenza rifiuti, gli italiani pagano centinaia di milioni di Euro per portare rifiuti italiani in giro per l'Italia e per mezzo mondo, dalla Spagna al Portogallo e quindi trasformare i rifiuti in energia, in calore e in ricchezza è un dovere. E avere al governo qualcuno che dice di no a città pulite, all'ambiente pulito e ai rifiuti che diventano riscaldamento per le case e per le scuole è assolutamente imbarazzante.